Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale Oggi andiamo a fare un match chiesto da voi ovvero Macho Man Randy Savage contro Hulk Hogan Per il D-Titolo WWE Championship dell'88 al 98 C'è stato così giusto? Lo sono già dimenticato Match particolare Vrestia il Mane a 5 Vrestia il Mane a 5 Ho scaricato l'arena ragazzi solamente per fare questo video Spero si avvicini più possibile all'originale Perché sinceramente non ho avuto modo di controllarla Macho Man è la versione originale del gioco Che trovate nel roster WWE Insieme a quella di Hulk Hogan Che addirittura è una versione ancora più vecchia Diciamo di quello che c'è già nel roster Che c'è quella del 2002 Abbiamo messo appunto Ho messo la versione Che sblocchi Quando fai l'ultimo match Della modalità 2K Showcase con John Cena Ed eccolo qua Hulk Rules Mamma mia Mi fa spaccare Ok brother Ok What you're going to do Bello Bello Complimenti Una rivalità un po' accesa questa Si vero Si ritorna indietro nel passato Nel anni 80 qui siamo vero Eh si Fine agli 80 Fine agli 90 Si Non ero manco nato Peccato Cosa ti sei perso Non lo so Sinceramente questi match Non mi Non mi facevano Cioè non mi fanno impazzire ora Figurati all'epoca Oh ma Aspetta per carità All'epoca raga Ma poi è il primo che dice match storico Match storico Certo Hulk Hogan Questo è un match storico Però Sei sempre stato protagonista di match storici Allora bisogna sempre trovarsi nelle situazioni Perché fossi stato lì raga Sarei esploso Cioè avrei lanciato Mi sarei messo nudo Mi sarei messo nudo Sarei salito sul palco A aver fatto invasione Guarda come si muovono i capelli Oddio guardalo You 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 Si Questa è la versione di Hulk Hogan Ha più capelli Bella mi piace Perché ovviamente In quell'anno era così Allora Voglio partire a bomba Non so qual è la mossa speciale E finale di Macho Man Credo che Una tra le due Sia quella che poi Sean fa Come mossa speciale Quella dell'Elbow Swap Si 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 Probabile Penso sia quella Probabile Si è ispirato Sean Chissà 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 Non lo sappiamo Certo Può essere Sempre dei migliori Ovviamente Ragazzi Stiamo parlando di due leggende Storiche della WWE Tutti e due Hall of Famer Esatto Tutti e due Classo Ma è ancora vivo Macho Man Si Bello Guarda Wow Complimenti Io qui ero un mostro Allora Macho Man si Credo sia ancora vivo Ma è uscito fuori dalle scene Da tutto Non si sa che fine ha fatto Però si Magari sta Dovrebbe essere ancora vivo Corazzo Magari sta Come al Kogan Vorrei sapere che fine ha fatto Sicuramente sta andando sempre in palestra A pomparsi a Las Vegas Ragazzi Storiche di astrollare il suo profilo Instagram Perché ce l'ha Penso gli stessi Lo stego Ragazzi seguiti al Kogan Grazie Seguite anche a me ragazzi Mi raccomando Non dimenticatevi di iscrivervi al canale E lasciare sempre un like E un bel commentino sotto al video Allora Dimmi una piccola chicca Come si arriva a questo match Vai Faccio un po' di storia Praticamente I nostri due cari amici Che in questo momento si scontrano Sì Sono stati un tag team Per un po' di tempo Però sappiamo poi come vanno a finire questi Tag team Ogni tanto si trasformano in rivalità In rivalità Mi fai schienando Sì ma Vabbè Perché lui ne approfitta Adesso che io racconto Beh certo Come fai tu Oddio Bello Fermo Guarda Te lo rifaccio Aspetta Te lo voglio fare anch'io Bastardo Perché non è andato a vuoto Dicevo Si trasforma Guarda guarda Fermo Bello Inizia ma l'hai mai steso Bello Comunque dice Questi tag team si trasformano in rivalità Mi è aperto forse Cosa successe Che Alkogan Il nostro bel Maccio Egocentrico Decise di Insomma Avere come manager La fidanzata di Maccio Man La fidanzata di Maccio Man Per farci accompagnare sul ring E quindi Scattenò in lui Una grossa gelosia Ma era la fidanzata ufficiale O solo della Storyline Ok Ti ho spagato la faccia Sì In gelosia Inizia 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 La faida Che li portò Avressi il media Wow Ma forse prestissimo Zagliano C'è un anno Ma forse me lo ricordo Però Te lo ricordi? Sì Bastardo Complimenti Ma la mia massa speciale Qual è? Dal paletto? Noo Peccato Ero troppo lontano Vabbè quindi Alcoga decise di entrare Con la ragazza Della storyline Di Maccio Man Quindi lui si è in gelosito E poi Complimenti E poi Niente E' andata così Ah e poi Da là è nata Tutta la loro La rivalità Ok Ma se sono incontrati Solo avresti il media 5 o perlomeno No hanno avuto anche Altri Vestelmenia 4 o 6 Non lo so Ah Ok Ma questa è la cosa Ma è la tua mossa finale Questa Ma non ci credo Forse non riesco A uscire È un po' merito Non riesco a uscire Ma c'è la rinvivenza Sì Ti già Sei già morto Eh cazzo Guarda non ho vita Tu sei piena Mi stai parando ogni cosa Watcha gonna do Watcha gonna do Un tubo Ragazza Stiamo subendo Oddio No è andata a vuoto Ci colpisce male Non ci credo Ma ti do una inconfittata Gliela para Non ci posso credere Complimenti a te Sì Forse te l'ho parata Complimenti a me Si gira E mi hai rotto le palle Però Bello Wow Mammale Mammale Military Press Bello 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 Vorrei Vorrei fare qualcosa Ma raga Non riesco a fare niente Oddio L'ho parata forse Sì 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 Cazzo Oh E dai Come è che Sì Cazzo Raga Non so la mossa speciale Dai faccela dal paletto Forse dal paletto Non lo so se è speciale o finale Fammi vedere Mossa finale Ma è quella di CM Punk Ti ho preso lo stesso Non ci credo Vi siamo paute Sì Ma sei serio Quando fa la Si lancia dal paletto Ok Ti ho un po' Bene Raga Ne abbiamo un'altra Ne abbiamo un'altra Adesso ce la para Guarda tutto il sudore di Adesso ce la para Guarda Guarda Lo sapevo Sei proprio una bruttissima persona Lo sapevo Madonna ragazzi Sta staccando tutto La Sarosky Beccati sta ginocchiata in pancia Cazzo E questo No Ma questo lo conosco No No You Brother E uno E due E tre Lo lancia tra le corde Big foot Non sbagliarmi questa Mi metti ansia Brava Schienami Subito Cazzolina Forse non esco Raga O forse si Ce la faccio Ce la faccio Però sono morto Io non ho più niente Non ho niente Resilienza Non ho nulla No Vabbè Cazzo Ragazzi Big foot Ragazzi Stordito Non posso fare nient'altro Credo che Il match È finito Vabbè Arbitro Signor albero Signor albero Signor albero E non ce la faccio Alcogan Ragazzi È il nuovo Campione W.W.E. Championship Match Se non sbaglio Finito esattamente In questo modo Dopo la vittoria Di Alcogan Ragazzi Ragazzi Non c'erano Penso che non ci fossero stati dubbi Che chi fosse il vincitore Di quell'incontro No Vabbè Sta suonando la chitarra Bellissimo In quegli anni Alcogan Dominava Dominava La W.W.F. Anzi Giusto Sì La W.W.F. Certo La dominava Senti che chiama un po' il pubblico Lo chiama Adesso c'è mezz'ora Di Di Perché si fa tutti gli angoli Bellissimo Non mi ricordo il nome del ragazzo Che ci ha consigliato questo match Ma Un applauso a te Te lo faccio Non so se si sentirà Complimenti per il match Che ci hai consigliato Veramente Bello Forse un match così Non l'abbiamo mai portato Sul canale Perché non ce l'hanno mai chiesto Così vecchio Un match così vecchio Che non ce l'hanno mai chiesto Ma Succede anche questo Quindi Grazie mille Mi raccomando Continuate a supportarci A consigliarci Al pre-match Intanto Al Kogan Va avanti E noi vi salutiamo E noi vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti What you gonna do Brother E penso che sia finito qui Al Kogan E il nuovo WWE Championship Straordinario Non fa niente A noi va bene lo stesso Un saluto Ciao